Come hai fatto a riuscire a catturare una così? È stato un colpo di fulmine. Colpo di fulmine? A lei? Aspetta! C'è una voce che te l'intendi con la cuoca? Dove è andato il mio maialino? Vi è corbello da papà! È arrivata l'ingiunzione di pagamento, cioè ci fottiamo i mobili tuoi. E così muo' dici? È in arretrato sul mutuo di 90.000 euro. Passiamo alla voce, per favore. Anche sottovoce, sempre 90.000 euro sono. Vaglia, fravaglia, fattura che non guaglia, corna, picorna, fattura che non torna. 10. Lei si è fissato con quegli stupidi numeri. 10, 20, 30, 40. 50 e 60. 20. Al superenalotto gioco sempre questi sei numeri. Che? La vita non si cambia così. Eh, se vengo al superenalotto ti faccio vedere come migliorare la vita mia. 30. Perché l'avvocato è la tua ex voglia? Non ti paghi gli alimenti. Con quelle che le passi potrebbe aprire un alimentari. 40. Io voglio arrivare vergine per la persona giusta. Già, fai sicuro. 50. Ma tu immagina quanto è difficile sognare uno come te? Eh, mi stacco quello lì. 60. 120 milioni. Perché la vincita di Gaetano è un segno del cielo che mi ripaga di tanta sofferenza. Vuole una carta? Eh, no, sto bene così, non vorrei sbagliare. Sto pensando alla ricevuta. Ma tu l'hai messa? No, perché noi qui rischiamo di perdere tutti i nostri soldi, eh? E io il marito. Tu hai perso la testa per questa storia della vincita? Sei invidioso. Non ha vinto Gaetano, va bene? Oh, ma è vero che non ha giocato? Io devo scoprire chi ha giocato la mia sestina vincente. Ehi, Gaetano, Nicola! Ti conosco, caro. Sono Osvaldo. Deve essere un fan. E allora fanno un gulò. Tu levo un cuci e a me qua, se fanno... Arricchizzi. Arrava tutti i porti.